E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti perché seguiremo il decorso di tutto il calcio a mercato anche di Milan e Inter devastate di like, seguite Surfospot su Instagram, mi raccomando pagina amica di calcio ed estetica guardatevi i video fatti, il cattomarcato della Lazio e tutti gli altri questa sera pubblicherò video sull'attaccante della Fiorentina, veramente video devastante con sfoghi e vergogne e vi chiedo anche poi domani cattomarcato della Roma, potentissimo, potentissimo e chiedo anche agli abbonati intermedi di farmi qui in sezione commenti un recapino sui cattomarcati che hanno richiesto c'era in sospeso mi pare l'Udinese, qualcuno che aveva richiesto il Monza ecco, fatemi un recapino nei commenti non sovraccaricandomi perché quest'anno non è che ho voglia di fare cattomarcati fino ad agosto ecco, fatemi qui le vostre richieste degli abbonati intermedi così le segno poi andiamo ad esperire i cattomarcati tra questa e la prossima settimana allora, parliamo invece di due vicende importanti questo discorso su Brozovic e Tonali che riguarda Inter e Milan allora, parto dal discorso di Brozovic anche se poi arriveremo a conclusioni molto simili per entrambi io questa cosa qui non la farei assolutamente cioè, se fossi nell'Inter, Brozovic cercherei di tenerlo a tutti i costi e di fare della sua conferma una riprovata manifestazione delle ambizioni dell'Inter e della capacità di mantenere fortemente competitiva l'Inter ora, io su Brozovic posso capire, nel suo caso, che un'offerta in arrivo da Barcellona alla sua età possa far vacillare, possa far pensare però è altrettanto vero che l'Inter da parte sua può avere diverse armi ha l'arma del confermarlo in una squadra dove lui è uno degli assoluti protagonisti mentre a Barcellona bisognerebbe vedere se sarebbe effettivamente così dal punto di vista tecnico l'Inter è comunque una finalista di Champions è una squadra che l'anno prossimo lotterà per lo scudetto è una squadra ai vertici e faccio anche un altro discorso della sessione di Brozovic si parla praticamente ogni anno e quasi ogni sessione io vi ricordo che anche quest'inverno in molti chiedevano ma questo Brozovic via in scambio con che sì e già all'epoca io vi dicevo attenzione, no, non sottovalutate Brozovic rendetevi conto alla fine il giocatore è sempre stato quasi ad ogni sessione lì e lì per salutare poi ci si rendeva conto quando lui rimaneva di come facesse la differenza e di quanto fosse importante e non mi crogiolerei troppo sul fatto di Cialanoglu perché è vero che Cialanoglu con Inzaghi ha imparato a diventare un po' un tuttocampista ad avere un ruolo anche più di regia ma non è Brozovic non dà le linee di geometria non dà l'equilibrio che dà Brozovic Brozovic per l'Inter è molto importante e anche lì ma il gioco vale la candela cioè stiamo leggendo cifre di 20-25 milioni comprensibili anche per l'età del giocatore ma che tipo di interesse ha l'Inter oggi a vendere Brozovic per una cifra del genere e non regge neanche il discorso che devo vendere per comprare perché ripeto con quella cifra lì ci fai pochissimo io vi posso anche dare il nome dell'eventuale sostituto ve lo do adesso ve lo do a cappella non l'ho messo nel cattomercato dell'Inter che ho fatto molto potente perché assolutamente Brozovic lo terrei ma qualora Brozovic andasse via vi do già il nome del sostituto che indicherei io che è Tyler Adams dell'Inter ma anche lì se mi entrano 20 milioni per il cartellino di Brozovic non è mica detto che con quei soldi riesco a comprarmi Adams per esempio e quando parliamo di Adams non è che stiamo parlando di uno dei primi 5 o 10 centrocampisti in Europa stiamo parlando di un buonissimo giovane di un nazionale statunitense ma appunto il gioco non vale la candela vuoi comprensibilmente devi fare delle cessioni per avviare il mercato in entrata i nomi sono due sono quelli di Onana e quelli di Danfries sono questi i giocatori che tu puoi o devi andare a vendere nel momento in cui hai bisogno di fare delle cessioni per far mercato in entrata Brozovic assolutamente no se fossi l'Inter cercherei a tutti i costi di convincerlo a rimanere di dargli ancora più centralità e di far passare attraverso la conferma di Brozovic il manifesto e la sicurezza che l'Inter mantiene un centrocampo molto forte molto potente e di far rimanere assolutamente il giocatore su Tonali e il Milan e passiamo all'altra cosa il discorso è ancora più importante e più grave perché adesso ha detto Sport Italia che l'entourage del giocatore sarebbe in Inghilterra a sentire questa offerta si parla di 60-65 milioni pronti ad essere investiti sul cartellino del giocatore ma anche lì non mi farei molto ingolosire da questo tipo di offerta perché a parte che è un costo giusto secondo me non è assolutamente un prezzo monstre non è una cosa fuori mercato per me Tonali vale quei soldi specie se guardo in prospettiva forse anche qualcosa di più ma poi rendiamoci conto di cosa ha davanti il Milan il Milan ha deciso di confermare Pioli che anche lì parliamone a livello di garanzia a livello di scelta e tutto e il calciomercato che il Milan ha davanti è un calciomercato nel quale tu comprensibilmente devi andare a riempire in modo molto difficile uno schema molto difficile di giocatori forti e competitivi se il Milan vuole rafforzarsi deve andare a riempire questo 4-2-3-1 di difficile riempimento e di difficile gestione di giocatori che facciano fare il salto di qualità ora se noi prendiamo in mano il centrocampo del Milan l'unica certezza che tu hai nel centrocampo e una delle poche certezze che hai nella rosa a livello di alta competitività è proprio Tonali perché Benasser ha un infortunio che gli farà saltare probabilmente quasi tutta la prossima stagione o quasi ok? il trequartista lo stai cercando barra lo devi prendere se va via anche Tonali devi rifare il centrocampo e o lo rifai con chiamate scautistiche pesanti e riuscite ma anche lì comunque può essere un rischio perché cambiare tre elementi su tre dei titolari è sempre un po' un rischio ok? a meno che non si riconsideri Krunic titolare ma rifare completamente il centrocampo già è un rischio tecnico e rischia di essere difficile anche dal punto di vista economico pur contando l'accessione di Tonali ma in più il Milan non è che ha solo il centrocampo da andare a risistemare perché il Milan c'ha anche un'esigenza sull'esterno destro alto ha un punto di domanda sul terzino destro ha un'esigenza nel centro avanti il portiere bisogna vedere maignan che cosa ha che cosa non ha cioè siamo sicuri che anche a livello economico anche solo a livello economico il gioco valga la candela siamo sicuri che a livello tecnico l'accessione di Tonali tutela possa permettere che già c'è i pioli in panchina e uno schema che far stare in piedi è molto difficile se non hai giocatori ipercompetitivi e poi ripeto che tipo di garanzie anche a livello non voglio dire emozionale però già è andata via la dirigenza dello Scudetto è andato via Maldini che per molti è stato un boccone difficile da digerire va via anche Tonali che voglio dire ok che nel calcio moderno le bandiere non esistono più però Tonali è forse il giocatore che in questo momento più si avvicina a quel concetto lì è anche giovane è milanista è al Milan anche da poco perché Tonali è al Milan da 2-3 anni le premesse e gli intenti erano sarebbero dovrebbero essere totalmente diverse quindi io la cessione di Tonali non la farei assolutamente perché già il Milan ha una difficile esigenza di rafforzamento e per la strada che ha percorso è difficilissima perché è difficilissimo andare a costruire una squadra forte basandosi su questo schema e su questo allenatore inizi anche a togliere forse la pedina che ha centrocampo ti dà maggiore sicurezza e maggiore equilibrio la certezza forse anche la garanzia tecnica ed emozionale dalla quale ripartire rischiano di venire veramente meno tante fondamenta poi che cosa fai o spendi 120 milioni o anche di più e mi vai a sostituire Tonali con uno di ugual livello o più forte altrimenti il rischio è quello che per far quadrare i conti devi fare una squadra un calciomercato basato su giovani e scouting in cui vai a riempire la squadra di nuove scommesse di diverse scommesse che sappiamo bene che con Pioli è sempre un terno all'otto tendente al ribasso e smentisci un po' quelli che dovevano essere gli intenti cioè quello di prendere i famosi giocatori da Milan che aveva chiesto Pioli ok? cioè se tu vuoi cedere Tonali e rifare completamente il centrocampo è un azzardo che non so se valga la pena percorrere anzi Tonali è una di quelle poche certezze dalla quale è assolutamente consigliabile ripartire ok? quindi ripeto se devo analizzare queste due cose qui io sconsiglio vivamente alle due squadre di privarsi di questi giocatori anzi che questi flottanti di mercato qui che stiamo vivendo in questi giorni la cosa migliore è che le due squadre se ne escano confermando i giocatori e facendo rifiutare barra rifiutando le offerte pantagrueliche che arrivano da questi se il Milan se ne esce dando anche una prova di forza dicendo no noi tonali non prendiamo in considerazione offerte i tonali resta dai anche un segnale di forza positivo ma se il giocatore va via auguri 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 anche perché non dovevano essere queste le premesse ed è rischioso che le premesse siano queste perché il Milan avrebbe bisogno di aggiungere non di togliere perché già la struttura con l'allenatore che hai è abbastanza precaria se inizi anche a togliere auguri un caro saluto a togliere grazie a tutti